E' andato in tempo, vedendo un video di quelli già passati, dei tanti passati in tv. Diamo subito la parola al sindaco. Abbassiamo il volume. Il tempo dipende al piano sindaco, intanto alle prese con i dolci da un lato e alle prese con il territorio e la struttura del territorio. Il libro te lo metto davanti, così giusto come accenno, per sapere e per guardarlo. Il microfono che potete usare è questo. E' un progetto a tutti, scusate il ritardo, ma ci tenevo a esserci. Perché quando si tratta di una cittadina della penisola che dedica la sua vita alla scoperta delle nostre tradizioni e lo fa in maniera egregia, portando anche, diciamo, piano di sorvento, la penisola tutta, all'attenzione nazionale con le sue opere. Quest'opera in particolare, attraverso i dolci, che piacciono a tutti, piacciono a tutti in famiglia, dai bambini, ai genitori, ai nonni, quindi è qualcosa che ci tiene uniti, più dolce. Il dolce in qualsiasi periodo dell'anno, a Natale, a Pasqua, tutte le feste, il dolce fa parte della nostra tradizione, dei nostri ricordi, delle nostre famiglie. Certi dolci vengono tramandati, la maggior parte, uno dei più sentiti, più importanti, da padre e figlio. E c'è una storia di dolce. Questi sentimenti, perché poi si parla anche di sentimenti, nelle ricette ci sono dei sentimenti, che vengono trasmessi veramente col cuore da Maria Grazia. Quindi io veramente la ringrazio a nome di tutti i garottesi, tutta l'amministrazione comunale, per questo suo impegno, questa sua passione, che la, devo dire, la rita, la trasmette un po' a tutti. Ho fatto leggere a mia moglie, che è una verità, che è rimasta veramente contentissima, che non è bravissima a fare i dolci, si è messo a fare già qualche cosa. Quindi voglio dire, è uno stimolo, diciamo, un po' per tutti, anche perché poi ha coinvolto le figlie, ha coinvolto anche me, quindi, insomma, è qualcosa di importante. E sì, continua, perché è vero, non è solo il fatto di fare il dolce, ma il fatto di stare insieme nel fare il dolce. Penso che questo è il messaggio che vuoi dare con questa tua opera. Quindi io veramente ti ringrazio di essere qui.